Chiuse le indagini sulla maxitruffa ai danni dell'Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Sono 75 i soggetti e gli enti coinvolti in tutta Italia, tra cui l'Abruzzo, per un giro di affari illecito su cui si sospetta anche la mano della mafia foggiana, visto il coinvolgimento di soggetti contigui a figure interne ad organizzazioni criminali del Gargano. Le frodi accertate dai finanzieri ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ricettazione, truffa gravata ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Questo è l'esito dell'operazione Transumanza condotta da nord a sud dalla Guardia di Finanza di Pescara Diretta e coordinata dalla Direzione Distrittuale Antimafia della Procura di L'Aquila. Il pool investigativo ha così tratteggiato l'esistenza di un sodalizio criminale dedito alla perpetrazione con l'aggravante mafiosa di frodi a danno del bilancio nazionale comunitario che sarebbe stata attuata mediante indebite e richieste di contributi per il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia nel settore della politica agricola comune. Per truffare Bruxelles l'Associazione per delinquere operativa dal 2014, di cui farebbero parte 13 persone, avrebbe simulato il possesso dei requisiti necessari per ottenere la disponibilità dei terreni e di corrispondenti titoli PAC rilasciati gratuitamente dalla Riserva Nazionale dei Titoli ai nuovi giovani imprenditori agricoli. Secondo gli investigatori, le nuove imprese agricole fittizie sarebbero state in gombutta con altrettante società cooperative agricole o associazioni temporanee di imprese costituite per fare incetta di migliaia di ettari di terreni la cui concessione ad uso civico veniva messa a bando dai comuni.